Il Governo è stato battuto in aula sul disegno di legge che prevede un mutuo da un miliardo di euro per pagare i debiti che la Regione ha nei confronti delle imprese. Vuoti i banchi della maggioranza e assente il Governo in aula, l'Assemblea ha così accolto la richiesta del capogruppo della lista Musumesci Forza Italia Santi Formica. Il disegno di legge viene così rimbalzato dall'Ars e ritorna in commissione bilancio. Una sconfitta non da poco per il Governo regionale. D'altronde il mutuo da un miliardo di euro per pagare le imprese nelle ultime ore aveva scatenato forti polemiche, soprattutto con le critiche da parte del mondo imprenditoriale siciliano. Le associazioni di categoria si dicono contrari al blocco delle aliquote IRAP e IRPEF per 30 anni per poter pagare il mutuo e chiedono di recuperare i soldi in modo diverso, ovvero attraverso tagli e revisione della spesa. La massiccia assenza in aula dei deputati della maggioranza rappresenta probabilmente anche un segnale nei confronti del Presidente della Regione Crocetta nei giorni in cui si discute del rimpasto di Governo. Ieri il primo vertice di maggioranza ha durato 5 ore sul nodo della nuova squadra. Da una parte gli alleati del Partito Democratico e dell'Udc chiedono una nuova squadra composta non più da assessori tecnici ma da esponenti politici. Crocetta invece difende l'operato del suo Governo e si dice contrario all'azzeramento della Giunta. Ieri non è stato raggiunto alcun punto d'incontro, tutto è stato rinviato a un nuovo vertice previsto per domani. Nel frattempo il Governatore incontrerà singolarmente i partiti.